In questi giorni circolano su tutti i canali mediatici e non solo social, giornali e così via tantissime notizie anche forovianti su quello che è l'attacco informatico alla Regione Lazio. Quello che sappiamo per certo è che dall'1 agosto il data center della Regione Lazio non è più disponibile, è stato messo offline dai tecnici. Da una ricostruzione del post, questo dovrebbe essere a causa di un ransomware che ha criptato i dati all'interno del data center, di fatto rendendo inutilizzabile tutte le sue funzionalità ed è per questo che è stato messo offline. Di conseguenza questo ha portato alla paralisi, al blocco di tutti i sistemi collegati a questo data center della Sanità della Regione Lazio. Si parla anche ovviamente di tutta la procedura delle vaccinazioni contro il Covid che comunque stanno andando avanti con delle procedure cartacee. Le notizie spesso parlano di un attacco informatico di stampo terroristico, ma finora non sembrano esserci evidenze e si tratta semplicemente di un attacco ransomware classico. Ma che cos'è un attacco ransomware e come funziona? Un attacco ransomware è un attacco il cui scopo è quello di criptare o scurare i dati di un sistema informatico allo scopo di chiedere un riscatto per rimetterli in chiaro e quindi renderli di nuovo riutilizzabili. In questo specifico caso il software sembra essere entrato all'interno della rete della Regione Lazio passando da una postazione di smart working. Attacchi informatici di tutti i tipi sono aumentati esponenzialmente da quando la pandemia ci sta costringendo a lavorare da casa. Questo ha particolarmente avuto un riscontro negativo sulle aziende che non erano pronte a questo tipo di lavoro e che magari hanno costretto per vari motivi i propri dipendenti ad utilizzare i PC personali per lavorare per scopi di lavoro e per collegarsi alla rete aziendale. Questo in gergo significa aumentare la superficie d'attacco quindi i potenziali punti d'ingresso dove degli attaccanti possono entrare. I PC personali tipicamente non sono configurati con gli stessi criteri di sicurezza dei PC aziendali. Ecco che quindi per un attaccante può essere più facile sfruttare queste casistiche per usare un PC personale, un PC non correttamente protetto come punto d'ingresso per poi spargersi nella rete aziendale. Un recente studio di Sophos, metto il link qui sotto, ha analizzato quelli che sono tutti gli aspetti di un attacco ransomware, quanto sono diffusi, quanto costano eccetera. Allora il costo per recuperare da un attacco ransomware medio è di circa 760.000 dollari. Secondo un recente studio di Sophos, link qui sotto, 760.000 dollari è il costo medio che un'azienda deve sostenere per recuperare da un attacco di tipo ransomware. Il 73% degli attacchi ransomware va a buon fine, nel 94% delle casistiche dopo il pagamento del riscatto la vittima ritiene i suoi dati in chiaro, il 56% delle vittime invece decide di risolvere la situazione recuperando i dati da un vecchio backup. Come posso proteggermi a casa da degli attacchi di tipo informatico? In generale cerchiamo di aggiornare il firmware dei nostri router e di cambiare la password di default. Spesso questi sono i primi punti attraverso i cui gli attaccanti riescono ad entrare. Mantenere aggiornato il proprio sistema operativo è un'altra buona pratica con le ultime patch di sicurezza. Inoltre noi come utenti dobbiamo essere molto prudenti a stare attenti a tutti gli allegati che apriamo nelle email e alle pubblicità in cui clicchiamo. Nessuno ci vuole regalare bitcoin, non abbiamo vinto iPhone, vacanze, premio o crociere. Se questo video ti è stato utile metti un mi piace e iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sulle notizie di informatica o di programmazione.